Oggi mettiamo a posto mezzanina per me sei cose vecchie e formane, quella che noi chiamammo scartapelle. Oggi ho trovato tre, quattro pazzielle e quando i figli miei e i creaturie stavano tutti quanti attorno a me, questo pensavo un po' mezzanina, questi pazzielle che tenevo in mano, mentre tenevo un triemmolino delle gambe e avevo poco affanno. E che vuoi fare? E' l'età. Me ne so se tenevo in mano un tronino piccirino, piccirino, tutta ammaccata, con la pazienza mia e con un martelluccio adderezzato. Perché poi c'era la vita che c'era la voglia e chiudere la molla. E mi ha credito. Dopo trent'anni e più che questa pazziella si è mise nata e avuta a funzionare. E camminava, e questo rumore ricordo si dava in capo a me e non ricordo. Pensava, vanno tutte le sere. Io vanno in palietta e gli va a commigliare. Un vaso, un segno di croce, una preghiera. Ma pensate a due miei belli papà. Se ne so aiuto, non ne vedo mai. Ma vanno presto a tenere che fare. Non trovo ne manca una minuta. Una minuta. Per me venire a trovare. E che vuoi fare? Ma piglia a nome e Dio. Quelli che si è affermati ora sono io. Sono io. Che ora non ho niente da fare. E che sia la vita? Ecco i pazzielli loro. Questi pazzielli ma pazzie papà. No.